Sì Michele, questa è la polpetta con la la doccia, la polpetta con la la tradizionale di San Rocco. San Rocco è un santo che qui è molto sentito, soprattutto dopo la pandemia. Dopo la pandemia San Rocco ricordiamo che ha combattuto la peste, ha combattuto tante problematiche in passato e qui è stato invocato a Maiano, che è un quartiere che amava molto anche Lucio Dalla. Sì, molte volte è venuto. Adesso già fosse l'ospetto. Questa è quella della caratteristica, cioccolato, cedro, ci sono una ventina di ingredienti. Dopo se puoi, puoi andare a riprendere questa, la ventina o tutti gli ingredienti. Quando vogliono andare in stanza? Siamo almeno una quarantina di noi. Questa è la 60 grammi di bontà, sono le polpette, il peso della polpette. Allora non vi resta che venite qua e assaggiarci. Fino a sabato. Fino a sabato, grazie. Ciao.